La questione del bilancio del Teatro Vittorio Emanuele non smette di stupire e trova posto alla Procura della Repubblica attraverso la denuncia dei revisori dei conti. Il piano non convince soprattutto in funzione di una stagione artistica che non riesce a partire senza l'approvazione del bilancio. Il sovrintendente Gidio Bernava ha presentato una sua versione ma neanche questa convince. Per salvare l'ente ci vuole molto di più di un mutuo anche se preso in considerazione dall'assessorato regionale all'economia. La gestione amministrativa del Teatro Vittorio Emanuele si appoggia su due fazioni che vogliono il bene del mondo spettacolo dal presidente Maurizio Puglisi al sovrintendente Bernava. Eppure l'approvazione del bilancio 2016 non si concretizza. I debiti finiscono nel girone dell'inferno dei revisori dei conti. La bocciatura è più che informale da Palermo. Il CDA dovrebbe rivedersi in questi giorni. Il sovrintendente ha garantito ai nostri microfoni di voler dare seguito al cartellone teatrale con 550 mila euro entro fine ottobre. I direttori artistici di prosa e musica Bruschetta e Renzo sono pronti con le loro formule ma il bilancio di previsione delle entrate è andato troppo al di là delle aspettative e il sipario non si può alzare. La prossima stagione per Bernava costerebbe un milione e duecentomila euro a fronte dei due milioni e settecentomila programmati dall'ex sovrintendente Saia. Si preannunciano nomi eclatanti come Giancarlo Giannini ha rivelato Bernava ma intanto i revisori bloccano le buone intenzioni.